E si ci siamo ragazzi, è ora di mettere a nudo le mie rose, quelle che ho fatto durante le numerose aste di questo periodo Oggi voglio presentarvi l'asta del Fanta Starks Allora è stato un'asta molto particolare, ne parleremo tra un po' ma prima voglio spiegarvi cos'è Starks Starks è il sito dal quale potete andare a acquistare i token ufficiali dei calciatori della Serie A E guardate qua ne abbiamo a bizzefe perché al momento abbiamo Niko Gonzales, Frattesi, Colombo, Immobile, Scamacca, Mandragora, Carnesecchi, Calafiori, Strepezza, Bove, Marchizza, Zortea, Birindelli, Donati, Antonucci Insomma i migliori giovani della Serie A, i giocatori più appetibili in sede di calciomercato, i giocatori più forti della Serie A Li abbiamo tutti qua dentro la piattaforma Starks, di Ciro ha nominato Gianluca Mancini Perché? Perché ragazzi non solo potete scambiare i token che già sono stati acquistati Ma potete anche acquistare i token al prezzo bloccato dei nuovi giocatori che vengono listati Nel momento sono rimasti un cicinino di crediti di Gianluca Mancini che ancora potete acquistare a 0,2 star token Dice Lorenzo cos'è lo star token? La moneta attraverso la quale vengono fatti gli acquisti nella piattaforma Starks Come fate ad acquistare questa moneta? Beh ovviamente fate un deposito di almeno 20 euro nella piattaforma Starks Attraverso questo deposito ve ne regaliamo altri 15, dunque già avete 35 euro nel vostro wallet In più se condividete Starks nei vari social ve ne diamo altri 8, quindi 43 euro mettendone 20 E questi sono soldi ragazzi, con questi soldi potete andare a acquistare gli star token Attraverso i quali potete acquistare i token dei calciatori Dici ma perché devo acquistare i token dei calciatori? Perché ragazzi c'è un mercato dietro i token dei calciatori come potete vedere dal lancio Ad esempio Nico Gonzalez è aumentato del 79%, frattesi del 68%, Colombo del 140% Scamacca che è stato listato il giorno della nostra asta tra Fanta Youtubers è raddoppiato Quindi se il giorno dell'asta dei Fanta Youtubers ci avevate buttato 100 euro, ora ne avevate 200 Io ci hanno buttato i 100, poi l'ho rivenduto quando era al 60% Bravo, tontolone, quindi ci ho fatto un pochino Però ovviamente non ci ho fatto tanto quanto potevo farci tenendo i token bloccati su Scamacca Come potete vedere molti giocatori aumentano, qualcuno diminuisce ma il grosso Ovviamente essendo una tecnologia nuova, essendo una tecnologia in totale espansione Ovviamente capite che il trend è sempre positivo E capite che come ogni nuova tecnologia che riguardi le criptovalute è destinata ad aumentare velocemente nel tempo Ed è bene entrare in queste tecnologie all'inizio agli albori come adesso Starks Ricordatevi Bitcoin, ricordatevi Earth 2, potrebbe essere la nuova frontiera del calcio Il calcio del futuro è qui su Starks Benissimo e ora vi faccio vedere cosa ho fatto al Fanta Starks Dicevo era un'asta molto particolare Perché praticamente era un'asta dove durante lo svolgimento dell'asta C'erano dei bigliettini da pescare e c'erano delle, tra virgolette, penitenze da effettuare Sia quando acquistavamo dei giocatori della piattaforma Starks Ad esempio Immobile, Scamacca, Strepezza Sia quando dei giocatori a caso venivano estratti E io con la mia proverbiale fortuna che mi contraddistingue quando faccio questi giochi Per ben due volte ho dovuto abbandonare l'asta Un'asta pressoché perfetta fino a quei momenti E lasciare la mia asta a Japiox Japiox Youtuber molto particolare che potete seguire Vi metto il link del suo canale qui sotto in descrizione Ma vi metto tutti quanti i link di tutti i canali Degli amici che hanno partecipato al Fanta Starks E appunto ha preso la mia parte nell'asta E quindi abbiamo deciso poi alla fine Visto che praticamente metà la stalla fatta a noi Abbiamo deciso di condividere la squadra Dunque di mettere l'allenatore in seconda Ed eccoci qua 300 crediti 8 partecipanti Classic Chiamate per ruolo Iniziamo dalle porte Portieri che vanno via a prezzi assurdi Voglio fare una porta low cost Perché poi in questo Fanta voglio fare un attacco atomico Vado a prendere Miliko Vissavic a 13 Skorupski a 5 E faccio la coppiata Torino-Bologna E a 8 ho preso l'ultima porta disponibile E lo so forse ho pagato leggermente tanti Difesa Difesa Allora in difesa vado su tutti i giocatori low cost Voglio fare la squadra più low cost del mondo Dunque vado su Beokema a 2 crediti Ebuay 6 crediti Mancini 6 crediti Milenkovic 3 crediti Nathan 3 crediti Prendo ciao a 9 crediti Che mi sembra un ottimo compromesso Vado a un giocatore sul quale punto molto quest'anno Dunque ho la mia difesa Ciao Milenkovic Mancini Beokema Assolutamente da bonus tranquillissima Non voglio puntare al modificatore Non mi interessa Voglio puntare ai bonus in difesa Un più uno di modificatore mi passa e mi avanza Poi vado a menare sul centrocampo e sull'attacco Cosa succede? Pesco improvvisamente il bigliettino E Giapiox prende il mio posto E cosa succede Giapiox in questo momento? Ciao Ciao a tutti Sono Giapiox e ringrazio Lorenzo per avermi invitato nel suo canale Ringrazio anche Starks che mi ha dato l'opportunità di fare il fantacalcio Vigno l'ho scelto perché è stato un nome chiamato lì È un buon tappabuchi Diciamo è un terzino in cui non ha ballottaggi Perché adesso lì al Sassuolo c'è solo lui Non c'è più Rogerio Alla Roma aveva fatto male Però è un giocatore prettamente offensivo Perché anche la Roma difensivamente era scadente Ma offensivo secondo me È un giocatore che messo in condizioni del Sassuolo Che spinge molto sui terzini Punta molto sui terzini E ci ho voluto puntare Comunque l'ho preso L'ho rilanciato a pochi crediti Diciamo che ci può stare Poi ho scelto invece Toloi So che in queste ultime stagioni gioca meno Volevo vedere un po' a che prezzo andava Quindi lo ha stato E diciamo fino al 2% Mi sarei spinto su di lui È un giocatore comunque un veterano dell'Atalanta Un veterano di Gasperini È un giocatore che soprattutto quando l'Atalanta attacca Lui sale parecchio Quindi secondo me è un giocatore Che sulle pannine attive determinate E ci ho voluto puntare Dunque già Piox mi acquista Toloi al 3% E Bigna a 2 crediti Già quel 3% di Toloi So che l'avrei pagato Vabbè Andiamo al centrocampo Era un'assa molto strana Anche perché Molti nomi Per evitare le penitenze Che poi erano anche penitenze abbastanza Rotture di scatole Tipo dover telefonare Alla compagna di un altro Di tuoi avversari Dicendogli Provandoci Oppure telefonare a un altro amico Tuo youtuber Dicendo che ti aveva copiato un video Cercavamo un po' di guardare Le facce di Francesco E cercare di capire Quali erano i giocatori Che non dovevamo alzare Dunque molti giocatori Non li ho alzati Non perché non li volevo Ma proprio perché avevo paura Di dover poi fare Delle penitenze assurde Quindi capite La difficoltà dell'asta A fare Comunque sia Difesa Lo costo Me la sono portata a casa Centrocampo Dove vado a prendere A Uarra Se i crediti ci sta Bairami A tre crediti Piccolo errore Ma lì c'era Il problema ancora Di sapere Berardi Se sarebbe rimasto A salzuolo Oppure no Dunque ho preso Bairami Nel caso Visto che in questo Fanta Volevo puntare Berardi L'avevo detto Volevo puntare Berardi E quindi volevo prendere Berardi A tutti i costi Culivali Lo prendo ovunque Due crediti Così come De Ketelare E Ferguson Hanno per me Due ottimi acquisti A 11 crediti Quindi il mio centrocampo Guarda Ketelare Ferguson Ce l'ho Prendo un Bula Due crediti Che mi resta Sul groppone Nandez a copertura Pogba Lo stesso Mi resta Sul groppone Purtroppo Sui centrocampisti Ci sarà il mercato Di riparazione Dove andrò a svincolare Presumibilmente Pogba Ma due crediti Comunque Pogba Ci sta Può essere una scommessa Andrò a svincolare Credo un Bula Andrò a svincolare Forse i Bairami Vedremo quello che succederà Comunque sì Il mio centrocampo Ripeto L'ho fatto E ho molti crediti Sono chip leader In attacco In attacco Voglio prendere Berardi L'ho già detto Prendo Berardi E lo pago Relativamente tanto Visto le notizie di mercato Che c'erano Non voglio puntare Lautaro O Simen Perché già li ho In altri fantacalci Lautaro l'ho puntato Praticamente In quasi tutti i fantacalci Quindi in questo fanta Non voglio farlo Perché è un fanta strano Voglio fare qualsiasi cosa strana Che posso fare Voglio puntare la coppia Berardi Vlaovic E tutti mi dicono Ma Berardi Forse va la Juventus Era quel periodo Del mercato La Juventus Dico Non me ne frega niente Voglio la coppia Berardi Vlaovic È un'asta assurda Me la porto a casa Col seno di poi Mi è andata anche discretamente bene Perché prendo la coppia Berardi Vlaovic Dunque due primi slot In una Lega 8 E ci sta Vlaovic a 91 Prendo il mio amato Gallo Belotti Al momento ancora Lukaku non era arrivato Sembrava non dovesse arrivare nessuno Quindi me lo vado a prendere a 19 Che comunque sia Le sue partite le giocherai Secondo me in doppia cifra O vicino alla doppia cifra Ci arriva Prendo Muriel In onor D'andare Al Monza E invece Resta all'Atalanta Dunque sarà uno Probabilmente dei miei svincoli Ripesco la carta Fai fare l'Atalanta A Japiox Dunque altri 5 minuti Esco dalla stanza Partono Giocatori interessanti A prezzi Molto bassi Japiox Mi prende Beto Beto acquistato A 17 crediti Dunque sinceramente Anche sotto prezzo Che però È in odore Da andare all'estero E quindi Purtroppo Il mio terzo slot Va in un giocatore Che va all'estero Ma Japiox Perché hai preso Beto? Mi è sembrato L'occasione giusta Per puntare su di lui L'asta Stava andando Diciamo un po' In calo Perché molti giocatori forti Erano già stati presi Quelli buoni Rimasti fuori Erano pochi Beto mi sembrava Uno di quelli migliori Da prendere C'era qualche altro nome Meglio di Beto Ma ovviamente Gente che c'era più crediti Non si sapeva Beto Che sarebbe partito Ma comunque A quel prezzo Sembrava giusto Puntarci Io spero Che questa spesa Fatta per Beto Possa servire Con il rientro Di crediti di Beto Ce le possiamo Andare a prendere Un bello attaccante Bella Da Japiox E tutto Ciao E quindi Mi ritrovo Con questo attacco Al momento buon Monco dice Che potevi prendere Con quei 17 crediti di Beto C'è un Retechi A32 Che ce la facevamo A prenderlo Di A26 Dunque Secondo me La Oriente 12 Zola 14 Quindi probabilmente Nico Gonzalez 14 E quello è stato Il momento Dell'asta Giro 26 Quello è stato Il momento Dell'asta Nel quale Sono uscito Chiesa 15 17 Turam 15 Insomma Giocatori buoni A quel prezzo Ne potevamo trovare Per riuscire A concludere L'asta Purtroppo La scelta Ci poteva stare Ma Non La condivido Appieno E allora Eccola qui La mia squadra La mia formazione Tipo dovrebbe essere Milico Isavic Mancini Milenko Ciao Beuchema Ferguson De Ketelare Owar Vlaovic Berardi E al momento Gallo Belotti Poi vedremo nel mercato Di riparazione Quello che riuscirò a fare Ovviamente Sarò un mercato Di riparazione particolare Perché vado A risolvere Dei bug Di una squadra Non totalmente mia E dunque Sarà anche interessante Vedere Come mi muoverò Vi ricordo ovviamente Che tutto questo È stato possibile Grazie a Starks Il link di Starks È qui sotto In descrizione E vi ricordo Ancora una volta Vi ho già spiegato Cosa è Starks Nell'intro Ma vi ricordo Che entrare In queste nuove Tecnologie Agli albori È un'idea Molto intelligente 20 euro di deposito Vi ne regaliamo Subito altri 15 E poi altri 8 Se condividete Starks Nei vari social Nel frattempo Un saluto Dal secondo divano Più famoso del web E se ha capito Una battuta Sei uno sozzone Amore Dalle palazzine A fuoco La tua voce Riconosco Noi non siamo Come loro È bello È bello È bello È bello Stare così Davanti a te In ginocchio Sotto la scritta Lea di un sexy show Siamo ancora più di un giorno Meglio È meglio È meglio È meglio È meglio È meglio È meglio Io ti torno A martedì A lunedì No Venerdì È meglio È meglio È meglio È meglio Grazie a tutti.